Siamo con Jared Brown, il masto abistillatore di Sipsmith Gin, che ci racconterà un po' le caratteristiche e soprattutto la filosofia del suo brand, che ha davvero varie cose da raccontare. Siamo con un po' le caratteristiche, che era la forma non economica per produrare gin, ma non stavamo fare gin per profit, stavamo fare per noi e per qualcuno che apprezzavano il migliorno che un london dry gin potrebbe essere. Uno dei miei dimenticati in tutto quello che faccio viene dal autore Antoine de Zanazupari, che scritto The Little Prince, che ha detto, Perfetto è ottenuto non quando c'è nulla più a aggiungere, ma quando c'è nulla più a scoprire. Perfetto, e il VJOP è un gin molto particolare del Sipsmith che adesso ce ne va a far raccontare. VJOP è la gin che ha fatto un rock star in questo mondo, quali sono le caratteristiche e le caratteristiche di questo gin? VJOP, sicuramente lo conosco, VSOP, è una molto speciale pillo di cognac, ma non è francese, non ha nulla più a che con questo. È molto giunipro, e quello che volevo fare, è portare il full giunipro di sapore in un gin per il primo in la storia di gin. Ci sono tre mani di introduzione di gin per con la macera, metà il sapore, metà il sapore con la scoprire, metà il sapore, metà il sapore, metà il sapore, metà il sapore, metà il sapore. Le cino di gin per con l'uspero, metà il sapore con la scoprire e il sapore, metà il sapore e metà il sapore immediato senza macera. Ora, tu vedi a un sapore di gin per su. O, non di天 che metà i bambini nella scoprire al sapore. Metà il sapore, metà il sapore in una scoprire, metà il sapore, metà il sapore, metà il bambino da la scoprire, metà il sapore, metà il sapore. coilo. E quindi mi ha detto che non aveva mai avuto il sottile spettere in un gin. E ho capito capito perché. C'è un gin che si tratta di un'orchestra di botaniche, uno di brassi, uno di woodwind, uno di percussioni, e l'accelerazione in un balance è stato quasi tre anni. E' stato un'accelerazione di spettere l'alcolare di spettere all'interno di 57.4, e poi all'interno di spettere all'interno di spettere e tutto si tratta di line per fare questo bellissimo gin, dove la notte è molto semplice, giuniper.